Siamo partiti per la macchina, sono le 6, davanti c'è Andrea, c'è Caste, diretti a rifugio di Shabot due ore, due ore e mezza, forse staremo su. Ancora senza metri a rifugio, purtroppo non si vede ancora, bisogna regolare, sentita tranquilla. Siamo a cena, è anche arrivata la pasta e siamo pronti per il Gran Paradiso, Andrea. Guarda come è andato, è stato timbrato. Noi invece stavamo andando a colazione, lui cos'è che è mangiato? Mezza tazza di tè andrà più forte di noi, senza aver mangiato niente. Lassù, sulla nord, ci sono già un paio di ragazzi. Andrea ha provato a passare di là, ma è crollato dentro. Tic tac, prendo fiato e vado. Dai, ole ole, dai Andrea si passa. Solti dai, ole forte, bravo Andrea, fatto. Siamo arrivati al blocco di roccia che c'è ormai oltre a metà della via. Qui sopra Andrea prosegue. Sto facendo traccia io. Vedete? Guardate qui. Tu passo, tu respiro. Oh, ti ho arrivato Andrea. Giornata spettacolare. Non dico che non c'è una nuvola, ma... Grazie a tutti. andiamo verso la macchia ho mangiato un piatto di tagliatelle adesso tutto a posto